Professor Barbero, buonasera, che gioia averla qui tra noi. Grazie. No, no, le dico la verità, i suoi giudizi storici stasera ci saranno particolarmente preziosi. Come avrà sentito dall'introduzione, noi cercheremo, col suo aiuto e con l'aiuto di altre persone che interverranno, di capire che cosa ci sta succedendo, perché che ci stia succedendo qualcosa di molto importante è chiaro. Ma la natura, non dico le conseguenze, che chissà, ma la natura forse va chiarita meglio. Secondo lei, guardi professore, le faccio vedere, guardi questa pianta. Qua abbiamo quelle due zone rosse, uno è il Medio Oriente dove c'è la tragedia israelo-palestinese e l'altra lassù è l'altra tragedia tra la Russia e l'Ucraina. Ma questo è niente, cioè è una cosa enorme, ma sono due conflitti particolarmente vicini a noi, anche geograficamente, all'interno di un quadro generale ancora più allarmante. Guardi che cos'è l'Africa, guardi che cos'è l'Asia, il subcontinente asiatico là sopra e poi l'estremo, il lontano oriente laggiù. Allora, la sua risposta a questa allarmante situazione qual è? La mia risposta è innanzitutto che mentre noi che viviamo in questo istante siamo qui adesso e pensiamo a tutti questi conflitti e in particolare i due più vicini a noi, quello tra Russia e Ucraina e quello tra Israele e Palestina, pensiamo a questi conflitti come parti di un'unica realtà. Però secondo me bisogna anche stare attenti perché questi conflitti hanno radici poi diverse. Mi verrebbe da storico da dire che è un caso, sa? Se in questo stesso momento ci sono quelle due guerre che ci angosciano così vicine a noi. Perché sono talmente diverse le loro radici che secondo me le capiamo meglio separandole che non pensandole insieme come invece ci viene naturale fare. Pensi che invece io ho avuto un'altra impressione, lei dice da storico, io da profano, da lettore di giornali, io ho avuto un'altra impressione e cioè che queste decine di punti di squilibrio mondiale messi tutti insieme diano un segnale di allarme. nel senso come se fosse finita un'epoca, stessimo passando da, semplifico rozzamente, lei per carità abbia comprensione, stessimo passando da un'epoca cominciata nel 1945 con l'egemonia nordamericana e l'imposizione tra l'altro della lingua inglese come lingua globale ad un'epoca in cui quella supremazia è messa in discussione, focolai, sorgono focolai fomentati tra l'altro molti da altre potenze in modo da rendere evidente che quella fase è finita. Condivide o no? Sì, no, questo lo condivido assolutamente. Mi viene da pensare che di quei due conflitti, uno però, cioè l'ennesima tragedia in Israele, se fosse accaduto vent'anni fa o quarant'anni fa non ci saremmo mica stupiti tanto. Cioè lì ci sono delle dinamiche che purtroppo mi sembra, pur con cambiamenti a ogni generazione, però ormai da tanto tempo tendono a ripetersi, mentre 30 o 40 anni fa l'idea di una guerra tra Russia e Ucraina sarebbe stata completamente inconcepibile e su questo ha perfettamente ragione. Quindi nell'insieme certo che è così, che è finito un mondo.